In realtà io vorrei solo presentare gli ospiti e ringraziarli per intervenire in questo dialogo che è dedicato, come sapete, alle linee guida dell'ANAC, a queste nuove creature che tutti stiamo cercando di capire bene come funzionino e quale impatto e quale collocazione trovino nel nostro ordinamento e anche nella gerarchia delle fonti, soprattutto con riferimento alla portata vincolante o non vincolante. In fondo anche l'ANA che è una creatura che ancora non c'è chiara del tutto nella propria strutturazione e nei poteri nuovi che esercita, il potere di raccomandazione di cui abbiamo anche accennato nel dialogo scorso quando abbiamo parlato del potere di autotutela. I relatori di quest'oggi sono, li presento in ordine di lavori, diciamo, la professoressa Margherita Ramaioli che è professore di diritto amministrativo all'Università di Milano Bicocca e che ho avuto il piacere di coinvolgere in questo dialogo anche in ragione del fatto che già su questo tema ha delle pubblicazioni scientifiche che cercano di riflettere su queste fonti di soft law, non tanto soft. Poi la seconda relazione sarà del consigliere Carlo Polidori del TRGAC qui di Trento che se non ho capito male, in particolare sugli effetti delle linee guida, se ho capito dalla... c'è sempre un coordinamento spontaneo tra i relatori che avviene via email un po' prima dell'incontro, io sono al privilegio di leggere questi scambi e quindi generalmente posso intuire le tracce, certo. E l'avvocato Tita che è un nostro ospite fisso nonché uno dei... con la camera amministrativa degli ideatori di queste iniziative del dialogo che si occuperà invece più specificamente dell'impatto rispetto alla normativa provinciale delle linee guida e anche in generale dei poteri dell'ANAC. Ringrazio tutti coloro che sono presenti, le autorità, la Presidente. Vi auguro buon lavoro, come sapete le relazioni hanno circa una durata di mezz'ora ciascuna e al termine delle relazioni ci sarà un ampio spazio per il dibattito, le domande, le osservazioni, i commenti di tutti coloro che sono presenti. Ora lascio la parola alla collega Margherita Ramaioli. Grazie. Grazie Barbara Marchetti, buongiorno a tutti. Allora in base a questo coordinamento spontaneo e armonioso a me il compito di introdurre e vi chiarisco fin da subito la mia tabella di marcia, ossia che cosa intendo sostenere. Innanzitutto vorrei cercare di chiarire se le linee guida ANAC presentano delle caratteristiche proprie rispetto alle linee guida che noi siamo soliti conoscere nell'ordinamento giuridico, perché le linee guida non sono uno strumento nuovo nel diritto amministrativo, sono note sia nel settore economico, specialmente nel settore finanziario, nel settore bancario, sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale, ma anche in settori sociali, le linee guida in materia scolastica, le linee guida in materia sanitaria, le linee guida in materia universitaria. Allora, innanzitutto, cercherei di dimostrare se le linee guida invece, ma nate dall'ANAC, hanno delle peculiarità. Per far questo cercherei di chiarire lo scopo, l'esigenza alla base della introduzione di un potere di linee guida in capo all'ANAC, ossia a quale esigenza, a quale istanza intendono soddisfare questi strumenti. E poi, per arrivare al tipo di vincolo, il tipo di natura, il tipo di legame che sussiste tra la linea guida e la stazione appaltante e tutti gli attori del mercato. Allora, delle linee guida noi iniziamo a avere già un pacchetto cospicuo. Dal settembre 2016, ai giorni nostri, sono sei le linee guida che sono state pubblicate. Pubblicate, questa è una precisazione importante, sia sul sito dell'ANAC, sia in gazzetta ufficiale. E il futuro correttivo al codice, quello che, se tutto va bene, il 19 aprile dovrebbe essere approvato, chiarisce un punto fondamentale che era un punto controverso, ossia a partire da quale momento le linee guida devono essere osservate dagli operatori del settore. Perché il codice dei contratti pubblici tace sul punto. E questo silenzio ha dato luogo a molteplici interpretazioni. Entrano in vigore nel momento in cui sono pubblicate nel sito ANAC o bisogna attendere i 15 giorni della vacazio legis e quindi in gazzetta ufficiale. Ora, lo schema del primo decreto correttivo, che già circola anche online al codice, ha introdotto un comma che è il 17 bis dell'articolo 213, che stabilisce testualmente che le linee guida sono operative dal momento della loro pubblicazione, non sul sito ANAC, ma in gazzetta ufficiale. Quindi l'ANAC indica nelle linee guida la data di decorrenza ed efficacia della stessa, che non può essere anteriore dalla data della sua pubblicazione. E quindi il correttivo precisa un punto finora controverso. Quando sarà emanato potremo finalmente avere chiarezza definitiva sul punto. Detto questo, che è una questione pratica, ma le questioni pratiche sono quelle che creano maggiori problemi poi nella concretezza dei casi di specie. C'è però un problema innanzitutto di contesto, in cui si inseriscono le linee guida. Ossia si inseriscono in un mercato, che è quello dei contratti pubblici, che è un mercato i cui attori hanno un atteggiamento duplice, ambivalente. Ossia da una parte coloro che operano nel mercato dei contratti, sia le stazioni appantanti, sia le imprese, lamentano un eccesso di regolamentazione. Lamentano un eccesso anche di incertezza della disciplina dovuta all'eccesso di regolamentazione. Ossia un assottigliamento della discrezionalità perché ci sono troppi paletti, ci sono troppe regole. Questa è una posizione, ma al tempo stesso gli stessi attori del mercato reclamano una regolamentazione, richiedono regole. Hanno bisogno di sapere come eventualmente imbrigliare la loro discrezionalità, ossia come agire nei casi concreti. Sono loro stessi, che pur si lamentano dell'eccesso di regolamentazione, a chiederne una. E l'ambivalenza all'interno dei medesimi soggetti può avere molteplici spiegazioni, giuridiche, non giuridiche, sociologiche, politologiche e via dicendo. Ma è interessante, secondo me, nell'ottica delle linee guida, la posizione che ha assunto il presidente dell'ANAC, Cantone, con riferimento a questo fenomeno di ambivalenza. In una sua intervista al sole 24 ore, Cantone ha detto che c'è, da parte di molte stazioni appaltanti, da parte di molte amministrazioni, una fuga dalla responsabilità. Dice Cantone, c'è una fuga dalla responsabilità di molte amministrazioni che tempestano gli uffici ANAC di quesiti, spesso su questioni irrilevanti e evitano di decidere in attesa di una risposta. E quindi la risposta a questo atteggiamento, fornita dall'autorità anticorruzione, è di scaricare sull'ANAC un'incapacità di decidere, di scaricare sull'ANAC l'assunzione di responsabilità. Questo nell'ottica dell'autorità. Possiamo prendere questa posizione, possiamo fare delle considerazioni, però la lasciamo sullo sfondo per capire il senso delle linee guida, che si colloca appunto da una parte in una richiesta di regolamentazione e dall'altra parte nella sofferenza nei confronti della regolamentazione stessa. Le linee guida sono l'emblema di questa ambivalenza. Hanno sicuramente delle peculiarità le linee guida ANAC rispetto alle altre linee guida. La prima ragione che ha portato il nostro ordinamento ad affidare all'ANAC un potere di emanare di linee guida è di sperimentare un nuovo modo di attuare il codice. Espressamente, sia nella legge delega sia nel decreto legislativo di attuazione, si afferma che l'esperienza affidata al regolamento governativo precedente di attuazione della disciplina normativa è stata un'esperienza fallimentare. Ossia il regolamento governativo non ha dato buona prova. Appunto il lasso di tempo invocato dal consigliere è emblematico. Dal 2006 al 2010 si è dovuto attendere quattro lunghi anni per avere un regolamento. Non solo, ma molte delle modifiche che sono state introdotte al regolamento irrazionalmente sono state contenute in disposizioni di legge. Quindi il caos del precedente codice dei contratti pubblici ha reclamato un nuovo modo di attuare il codice nuovo dei contratti. E quindi alla base delle linee guida vi è l'esigenza di sperimentare, di assaggiare un nuovo modo di attuare la disciplina normativa. E quindi l'idea è quella di produrre una maggiore semplificazione rispetto al modello preesistente. Si supera, si sostituisce, si aborga il regolamento governativo del 2010 e la disciplina di dettaglio, la disciplina attuativa, la disciplina integrativa è affidata a linee guida. Non a una linea guida ma a una pluralità di linee guida. Il fatto che non vi sia una sola linea guida ma una pluralità di linee guida rende subito chiaro che siamo di fronte altro che a una sorta di atto spacchettato, atto frazionato di attuazione del codice. Passare da un solo regolamento governativo ad una pluralità di linee guida può essere un modo nuovo di implementare il codice dei contratti ma un modo che non facilmente ha l'insegna della semplificazione. E questo già è evidente nelle poche linee guida che noi abbiamo avuto. Queste sei linee guida, poi molte sono in consultazione pubblica e molte sono sottoposte al previo parere del Consiglio di Stato. Il fatto che vi sia una pluralità di linee guida significa che la disciplina di attuazione, la disciplina integrativa, dei tasselli essenziali della disciplina in materia di contratti entra in vigore non in un solo momento ma frazionata nel tempo. non solo entra in vigore frazionata nel tempo e quindi le linee guida entrano in vigore in momenti differenti. Ma siamo già arrivati ad avere delle linee guida che sono emanate, sono pubblicate in gazzetta ufficiale ma non entrano ancora in vigore perché a loro volta, pur essendo linee di attuazione del dettato normativo, hanno bisogno di altri atti di attuazione. Un esempio è dato dalla linea guida numero 5 sui criteri di scelta dei commissari di gara che è espressamente riconosciuta come vincolante però non è operativa perché rinvia ad un regolamento futuro dell'ANAC il quale a sua volta è subordinato a un decreto ministeriale del ministero delle infrastrutture e quindi è un procedimento che in via strata, in via teorica dovrebbe essere all'insegna della semplificazione ma che si scontra con una certa difficoltà di normare. Quindi una pluralità di linee guida è già di per sé un elemento di spacchettamento non solo ma le linee guida a sua volta richiedono atti ulteriori di attuazione. Quindi una disciplina che difetta almeno del carattere della organicità, della sistematicità perché è frazionata. Ma non vi è solo un'istanza di semplificazione alla base, ossia l'esigenza di sostituire un regolamento governativo che aveva creato dei problemi con una formula nuova di attuazione. Vi è una seconda istanza alla base delle linee guida ANAC. Non solo la semplificazione ma un'esigenza di flessibilità. Questa è la seconda chiave di lettura delle linee guida ANAC. Anche questa è una chiave di lettura che non si ricava in via interpretativa perché si mette un cappello ma perché traspare dal combinato disposto della legge delega e del decreto legislativo. è il legislatore stesso a parlare di regolazione flessibile, distanza di flessibilità. Il legislatore stesso, come notato nel primo parere del Consiglio di Stato al schema del codice dei contratti, ossia il parere numero 855 del primo aprile dell'anno scorso, 2016, è la prima volta che si parla di strumenti di regolazione flessibile in capo all'ANAC. Non è chiarissimo che cosa si intenda per regolazione flessibile, che cosa abbia il legislatore in mente parlando di regolazione flessibile. Ci si ispira in senso del tutto generico alla idea di soft law, all'idea di diritto flessibile, all'idea di un diritto che non è vincolante. E quest'idea di regolazione flessibile traspare innanzitutto da una norma centrale del codice dei contratti, è quella che attribuisce all'ANAC una molteplicità di poteri, che è l'articolo 213 del codice. L'articolo 213 attribuisce all'ANAC non solo poteri di vigilanza, non solo poteri di controllo, ma anche poteri di regolazione. L'ANAC con il codice dei contratti diviene una vera e propria autorità di regolazione dei contratti pubblici. E la disposizione, quest'articolo 213, non spiega bene che cosa si intenda per regolazione flessibile. Però elenca una serie di atti, tra cui le linee guida, che sono gli strumenti di regolazione flessibile. Elenca quindi, oltre alle linee guida, i bandi tipo, i capitolati tipo, i contratti tipo e altri strumenti nominati di regolazione flessibile, comunque denominati, che hanno uno scopo, che è lo scopo tipico di tutti gli atti di soft law, lo scopo tipico di tutti gli atti di diritto flessibile, ossia fornire supporto alle stazioni appartanti, favorire lo scambio di informazioni, promuovere l'efficienza, la qualità dell'attività delle stazioni, l'omogeneità delle procedure e favorire lo sviluppo delle migliori pratiche. Quindi un accompagnamento, un orientamento a favore degli attori del mercato. Questa dovrebbe essere, nell'ottica del legislatore, la regolazione flessibile. Le linee guida, quindi, se si obbedisce ad un'ottica di semplificazione e di flessibilità, è una linea guida che ha in sé una doppia natura. Se sostituisce il regolamento governativo, se è strumento di attuazione della disciplina legislativa, se è uno strumento di attuazione di quello che dice il codice, è una linea guida che vincola, che impone delle prescrizioni di dettaglio da osservare, se si obbedisce all'istanza di, appunto, semplificazione. Se però si fa leva sull'altra istanza, quella di flessibilità, siamo di fronte a degli strumenti che non impongono delle condotte, ma orientano, suggeriscono, promuovono le migliori pratiche. E sono quindi due elementi che cozzano due esigenze diverse, in capo al medesimo strumento, che portano, appunto, e hanno portato concretamente, a distinguere all'interno della grande categoria linea guida tra linea guida vincolanti e linea guida non vincolanti. Le linee guida vincolanti sono quelle che in passato erano il regolamento governativo, le linee guida non vincolanti sono questi strumenti di soft flow che orientano e non dettano, appunto, prescrizioni da osservare appena di sanzione. In realtà, questo è il secondo passaggio logico, che già questo è complicato, ma ce n'è uno ancora più complicato, il codice non sempre dice quali linee guida siano vincolanti e quali linee guida non siano vincolanti. Talvolta lo dice, altre volte non lo fa. E quindi è frutto di interpretazione, lo stabilire se una linea guida orienti o una linea guida vincoli. Sotto alcuni profili, ma solo sotto alcuni profili, la distinzione tra linea guida vincolante e linea guida non vincolante non è così drammatica, non è così densa di conseguenze. In particolar modo non lo è sotto il profilo procedimentale. Il procedimento per emanare linee guida vincolanti e non è il medesimo. E quindi il codice sotto il profilo procedimentale sdrammatizza la distinzione tra linee guida vincolanti e meno, perché tutte devono subire il medesimo processo. Tutte devono essere sottoposte alle regole stabilite in via generale di consultazione pubblica, di analisi di impatto della regolazione, di verifica di impatto della regolazione e quindi di massima trasparenza. Non solo il codice stabilisce che vi deve essere il medesimo procedimento, ma è la stessa ANAC che ha voluto introdurre un procedimento nel silenzio del legislatore, ossia il codice dei contratti non richiedeva come obbligatorio il parere preventivo da parte del Consiglio di Stato sulle bozze delle linee guida e l'ANAC sempre, in ogni caso, l'ha richiesto, sia che dovesse emanare linee guida vincolanti, sia che non dovesse emanare linee guida vincolanti. Quindi in ogni caso ha voluto adottare un procedimento rafforzato di emanazione sulla falsariga di quello stabilito all'articolo 17 della legge 400 del 1988 per i regolamenti, quindi si è comportata come soggetto titolare di un potere normativo regolamentare, chiedendo il parere al Consiglio di Stato, in tutte le sue bozze lo dice, per la rilevanza della materia che viene a disciplinare. Quindi dal punto di vista procedimentale, il procedimento per le linee guida è sempre lo stesso, sia che orienti, sia che imponga. Però le conseguenze sono diverse. Le conseguenze della mancata osservanza delle linee guida sono diverse a seconda che una linea guida sia vincolante e non vincolante, quindi l'aspetto patologico. Dal punto di vista fisiologico, procedimentale, nessuna differenza, invece i problemi iniziano a diventare un po' più drammatici quando si vede se l'atto sia precettivo o non precettivo. Nel caso delle linee guida non vincolanti, appunto dicevamo che la logica è quella della soft law, la logica è quella di promuovere buone prassi, la logica è quella che ha sempre svolto, in definitiva, l'ANAC e ancora prima l'autorità di vigilanza, ossia di promuovere buone prassi, appunto con quei quesiti che Cantone dice in maniera un po' insofferente, spesso gli attori del mercato gli hanno richiesto, perché si chiedono, si fanno quesiti, per indirizzare, per fornire appunto una guida che si potrà osservare o si potrà non osservare. Però gli atti non vincolanti, gli atti di soft law, gli atti cosiddetti precettivi, non in senso tradizionale, pongono un problema a chi li deve leggere e capire che cosa si debba fare di fronte ad esse. Secondo il Consiglio di Stato, la Commissione Speciale del Consiglio di Stato, di fronte a linee guida non vincolanti, come si fa a far sì che ci sia un'osservanza? Dice la Commissione Speciale del Consiglio di Stato nei confronti delle linee guida che la loro precettività deriva solo indirettamente dalla capacità che ha la linea guida di fornire illustrazioni convincenti e conclusive circa la preferibilità delle soluzioni proposte, ossia deve persuadere il soggetto destinatario, deve essere formulata, deve essere scritta in maniera tale da rendere chiaro che quello è il percorso da seguire, maestro. Al tempo stesso, però, e qui sta tutta l'ambiguità di una linea guida non vincolante, e qui tutta l'ambiguità di uno strumento di soft law, lo stesso Consiglio di Stato che dice bisogna essere persuasivi, mette in guardia l'ANAC da levitare eccessi di analiticità, eccessi di precisione che farebbero perdere la flessibilità propria dello strumento della linea guida, farebbero perdere proprio quella elasticità dell'indicazione in partita, quindi è una sorta di ambivalenza ancora, bisogna persuadere, ma non bisogna neanche dire troppo, perché se no gli spazi di autonomia, di discrezionalità, gli spazi di manovra in capo alle stazioni appaltanti verrebbero meno. Con la conseguenza, però, fondamentale, ricavabile però in via interpretativa, il codice TAC, è tutto uno strumento ancora da costruire, è uno strumento in fieri, quindi anche qui l'incertezza domina. In via interpretativa si può dire che di fronte a una linea guida non vincolante ci si può discostare motivando sul punto. È ammissibile quindi non osservare la linea guida spiegando però, per iscritto, da parte della stazione appaltante, le ragioni per cui si è inteso di scostarsi. Questa posizione, questa tesi, la si può ricavare in via interpretativa da un'altra norma del codice, che non parla di linea guida, ma parla di un altro strumento di regolazione flessibile, che sono i bandi tipo. La norma in questione è l'articolo 71 del codice dei contratti pubblici, che dice che le stazioni appaltanti devono motivare espressamente le deroga ai bandi tipo, dal che si deduce A che i bandi tipo possono essere derogati e B che per farlo occorre motivare espressamente. Visto che i bandi tipo sono strumento di regolazione flessibile e lo sono anche le linee guida, se ne dovrebbe dedurre che le linee guida non vincolanti possono non essere osservate purché si spieghi le ragioni di fatto e di diritto che orientano il senso differente. E allora se questo è possibile la ragione ultima delle linee guida non vincolanti è la ragione che hanno tutte le linee guida non vincolanti, che è quello di essere uno scudo, una protezione, un baluardo contro eventuali responsabilità. Ossia la stazione appaltante osserva la linea guida sapendo di non incorrere le responsabilità di ordine personale che è il tipico vantaggio che si ottiene osservando le linee guida ad esempio in materia bancaria oppure in materia finanziaria. Sono orientamenti, sono guideline perché si sa che in tal maniera avremo uno scudo di legittimità nell'osservare la condotta. nel caso però delle linee guida non vincolanti cambiamo il panorama si è al di fuori completamente della logica della Sofflot si è nell'ambito di un potere normativo espresso è appunto un alter ego del vecchio regolamento governativo si obbedisce appunto a uno schema totalmente differente in questo caso il nome non corrisponde alla sostanza del fenomeno si parla di linee guida ma non si ha la sostanza il contenuto del linee guida tant'è che appena era apparso il codice parte della dottrina in particolar modo Mario Pila de Chiti aveva evocato una eccezione di incostituzionalità di legittimità costituzionale nella legge delega che aveva attribuito appunto all'ANAC un potere normativo di emanare linee guida vincolanti perché nella legge delega mancano criteri mancano principi direttivi per emanare un potere che è un potere normativo vincolante tant'è che anche lo stesso consiglio di stato nel fornire i suoi numerosi pareri alle linee guida ha coniato un'espressione nuova una nozione nuova che è quella di discrezionalità esecutiva che spetta le stazioni appaltanti di fronte alle linee guida vincolanti la discrezionalità esecutiva è una nozione che consente di tenere insieme due cose che fanno fatica a stare insieme da una parte un vincolo eteromeno un vincolo normativo e dall'altra parte l'autonomia della stazione appaltante e quanto ho ancora di tempo chiedo al mio tutto il tempo no 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 quanto va bene ok grazie no per evitare di o fare corse o di tagliare ehm le linee guida appunto vincolanti sono simili ai regolamenti impongono non vincolo e devono pertanto essere osservate dalla stazione appaltante e da tutti gli altri attori del mercato ma come dicevamo non sempre il codice chiarisce quando la linea guida sia vincolante e quando la linea guida non sia vincolante quando chiarisce che la linea guida eh è non vincolante problemi non ce ne sono vi faccio un po' di esempi dal codice che possono essere utili allora casi in cui vediamo innanzitutto la vincolata casi in cui la vincolatività appare chiara articolo 83 comma 2 del codice dei contratti per i lavori stabilisce che con linea guida ANAC sono disciplinati il sistema di qualificazione i casi e le modalità di avvalimento i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente sempre nei paraggi articolo 84 si stabilisce che le linee guida di quel presente articolo disciplinano casi modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni e di decadenza dalle autorizzazioni degli organismi di certificazione non c'è scritto vincolo ma si richiama una disciplina il fatto che si richiami una disciplina indica chiaramente che le linee guida in questione sono vincolanti è frutto di interpretazione ma in questo caso problemi non dovrebbero sussistere altre volte invece testuale nel dire che la linea guida è vincolante e abbiamo già alcuni esempi anzi direi che la maggior parte delle linee guida che sono state finora emanate queste sei sono vincolanti alcune sono vincolanti ma come abbiamo visto non entrano ancora in vigore perché rinviano ad un regolamento di organizzazione della stessa ANAC altre volte con riferimento invece alle linee guida non vincolanti abbiamo una strada spienata da parte del codice articolo 36,7 dice l'ANAC con proprie linee guida da adottare entro 90 giorni stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di quel presente articolo non dice che non è vincolante ma si desume dal tenore della disposizione è un supporto è un ausilio è un aiuto è un incanalamento per migliorare la qualità delle procedure ma non sempre la situazione è così agevole non sempre è immediato stabilire se la linea guida sia vincolante o meno e allora innanzitutto è il lessico che assume un'importanza decisiva è il linguaggio che impiega l'ANAC è opportuno è consigliabile è preferibile che consente di desumere il fatto che la linea guida non sia vincolante e quindi il primo problema che si pone è un problema di linguaggio le linee guida se le avete lette non sono sempre un prodigio di linearità di chiarezza di lessico elegante di prose e quindi bisogna andare a leggere nelle maglie proprio del sintassi per cercare di arguire se il vincolo per non parlare dei riquadri che dovrebbero essere d'aiuto ma non lo sono sempre sembrano dei manuali in cui non sempre corrisponde poi il riquadro a quello che c'è scritto sopra e quindi dovrebbe essere assunto ma non sempre cioè così e ci sono già dei problemi emersi che appunto non siamo solo noi a dirlo ma emergono tra nella dialettica che vedremo un attimo se inchiusa le ultime cinque parole che dirò tra Consiglio di Stato e Anaca c'è già una dialettica sullo stabilire quando la linea guida sia vincolante o meno ad esempio con riferimento all'articolo 80,13 del codice in cui si dice le linee guida stabilite all'articolo 80,13 l'ANAC può precisare al fine di garantire omogenità di prassi da parte della stazione e da appaltanti quali mezzi di prova considerare adeguati per dimostrare le circostanze di esclusione ovvero quelle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che siano significative questo può è da interpretare come linee guida vincolanti o come linee guida non vincolanti via una facoltizzazione e il parere del Consiglio di Stato su queste linee guida relativa alle cause di esclusione dice fa un monito alla bozza della linea guida dicendo che dovrebbe essere meglio specificato che le linee guida si limitano ad indicazioni meramente esemplificative e che quindi le stazioni appaltanti hanno quella discrezionalità esecutiva che dovrebbe consentire loro di scegliere i propri apprezzamenti e quindi non avere un catalogo chiuso di esclusione e poi dopo questo caveat questa indicazione del parere del Consiglio di Stato in gennaio sono state pubblicate le linee guida e sono non vincolanti proprio grazie al monito che è stato dato dal Consiglio di Stato dichiarire espressamente che si tratta di esemplificazioni di clausole di esclusione e che pertanto le stazioni appaltanti potranno accrescere il catalogo delle cause di esclusione stabilite nelle linee guida le stesse ma e così con gli ultimi cinque minuti termino il rapporto tra ANAC da un lato e Consiglio di Stato è un po' più complesso di quanto può apparire a tutta prima tutta prima c'è appunto il Consiglio di Stato che dice dovresti mettere opportune dovresti mettere esemplificativo e l'ANAC recepisce questa indicazione in realtà ci sono alcuni fattori di perturbazione caratteristica tipica della soft law ossia di quel diritto flessibile di quel diritto che non è direttamente precettivo e quindi per estensione anche delle linee guida non vincolanti è che diventano subiscono un processo cosiddetto di indurimento ossia vengono osservate dai destinatari specie grazie all'opera della giurisprudenza che mostra di tenerla in considerazione questo è avvenuto a livello nazionale ed è avvenuto a livello europeo non nel mercato dei contratti pubblici che appunto seguono strade differenti ad esempio in materia antitrust a livello europeo le linee guida elaborate dalla commissione sono diventate linee hard law è diventata legge vera e propria ossia è diventato un vincolo da osservare grazie al fatto che la corte di giustizia le invocava grazie al fatto che era il giudice a dimostrare di tenerle in considerazione lo stesso avvenuto nel settore finanziario lo stesso avvenuto nel settore bancario per ora invece questo processo di indurimento non c'è manca nella materia dei contratti pubblici per ora come al solito perché è tutto ancora in divenire è una materia recente quindi è ancora in via di assestamento però c'è un atteggiamento della giurisprudenza nei confronti delle linee guida che è diverso rispetto all'atteggiamento che ha di solito la giurisprudenza nei confronti delle linee guida la giurisprudenza sia di primo che di secondo grado quindi sia al TAR che il Consiglio di Stato non richiama mai finora 2016 2017 le linee guida ma richiama sempre i pareri del Consiglio di Stato sulle linee guida dimostrando quindi che c'è un intermedio che fa la differenza il tempo è poco avrei tante sentenze ma accenno a una che è la più significativa a mio parere TAR Salerno numero 10 2017 ma è una costante TAR Catanzaro 2016 2522 e analogamente anche TAR Brescia 1790 2016 si fa riferimento non alle regigende linee guida ma al parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato su i fattori che possono essere sintomi di gravi illeciti professionali e quindi portare ad applicazioni di penali e quindi portare a quella clausola di esclusione che abbiamo visto essere previste all'articolo 80 del codice si dice le linee guida stabiliscono dei casi sono casi esemplificativi l'ANAC finora non aveva ancora chiarito il punto ma il giudice richiama sempre il parere delle linee guida e quindi l'orientamento che ha il Consiglio di Stato sul punto sul problema ancora un altro elemento il parere del Consiglio di Stato sulle linee guida bacchettano i pareri bacchettano le bozze di linee guida quando le linee guida non seguono la giurisprudenza pregressa che si era formata su il codice vecchio del appalti perché perché vi deve essere da parte delle linee guida un seguire l'orientamento giurisprudenziale anche formato sotto il vigore di un codice differente quindi vi è una tendenza che anche per un cortocircuito tra Consiglio di Stato in sede consultiva e Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per cui e con questo chiudo nella giurisprudenza appunto è difficile stabilire linee di tendenza abbiamo poche pronunce magari poi quando si pronuncerà il Consiglio di Stato sulle linee guida cosa che non è ancora avvenuta assumerà un orientamento diverso quindi sono semplicemente delle linee di tendenza embrionali che possono essere smentite abbiamo però un formarsi di una prima giurisprudenza che mostra una tendenza di seguire quasi istintivamente il momento precettivo della norma di legge così come interpretata dalla giurisprudenza e non tanto così come attuata dalla linea guida e quindi si diluisce la pretesa precettiva il vincolo l'effetto della linea guida perché si afferma che queste dovrebbero essere flessibili e quindi il medio viene saltato per far sì che ci sia la norma e la giurisprudenza in materia e con questo chiuso allora io innanzitutto devo ringraziare per l'invito che mi è stato rivolto a passare con voi questo pomeriggio per una serie di motivi innanzitutto perché questo pomeriggio mi consente di dare continuità all'intervento che ho già tenuto su questo tema al convegno per i trent'anni del tar di Trento che come continuo a chiamarlo tar ma dovrei chiamarlo tribunale regionale di giustizia amministrativa ma nella sostanza è un tar convegno che come ho avuto occasione di dire proprio in occasione del mio intervento a mio avviso ha avuto una rilevanza straordinaria perché proprio con riferimento al tema delle linee guida ha consentito di come dire di cogliere questa duplicità dell'istituto sia il problema dell'inquadramento nel sistema delle fonti sia il tema della nomofilachia cioè di questo nuovo ruolo che viene ad assumere l'ANAC come autorità di regolazione che va in sostanza ad affiancarsi a quello della giurisprudenza perché abbiamo voglia a dire che il nostro è un ordinamento di civil law ma sappiamo tutti che le amministrazioni si preoccupano di leggere quello che dicono i giudici amministrativi quindi questa distinzione sappiamo tutti tra civil law e common law è qualcosa che col tempo si è molto stemperato quindi primo ringraziamento ripeto è per questa linea di continuità poi e qui anticiperò le conclusioni del mio intervento di oggi pomeriggio questo intervento mi consente anche di sviluppare in qualche misura la conclusione che ho già tentato di ipotizzare in un contributo che mi è stato richiesto per uno di questi volumi di primo commento del codice degli appalti era proprio un volume dedicato al nuovo codice a me è stato chiesto di occuparmi della parte relativa al ruolo dell'ANAC nel nuovo sistema delineato dal decreto 50 quindi anche in questo senso è stata questa è un'ulteriore occasione per approfondire questa questione poi un ringraziamento particolare alla professoressa Ramaioli perché io prendevo appunti mentre lei parlava perché devo dire il suo intervento a mio avviso si distingue su questo tema per rara completezza e livello di approfondimento di questo tema quindi io la ringrazio per averci diciamo illuminato su molte questioni soprattutto sull'aspetto che a mio avviso è molto più molto interessante quell'aspetto comparativistico cioè linee guida in materia di appalti a fronte di un fenomeno quello delle linee guida che non è tipico della materia degli appalti pubblici quindi dobbiamo chiederci sostanzialmente se questo fenomeno nella materia degli appalti pubblici assuma una connotazione analoga a quella che assume in altri contesti dell'ordinamento oppure se stiamo parlando di qualcosa di diverso credo che questo sia il segnale che la professoressa Ramaioli fondamentalmente ha voluto lanciare quest'oggi e mi pare che lei abbia colto ovviamente il cuore del problema chi si occupa di contratti pubblici fino all'altro ieri aveva uno scenario abbastanza tranquillizzante c'era il codice c'era il regolamento c'era la giurisprudenza e poi c'era l'ANAC che adottava tutta una congerie di atti di natura non ben definita dei termini dei liberi pareri di precontenzioso quindi atti che andavano ad inserirsi in vari momenti diciamo dell'attività amministrativa quindi atti amministrativi generali come appunto determini e delibere la professoressa ha scritto un tema sul provvedimento amministrativo una monografia sul provvedimento amministrativo che quindi credo sia la radice poi di questo suo interesse per questa tematica quindi avevamo uno scenario abbastanza tranquillizzante perché? perché la giurisprudenza assolutamente tetragona consolidata sulla natura di questi atti dell'ANEC ci diceva non sono vincolanti chiaro io ho cercato tranne un precedente mi sembra dell'amico Stefano Toschei che forse aveva doti divinatorie perché riusciva a immaginare scenari all'epoca difficilmente ipotizzabili dove evidenziava l'aspetto dell'autorevolezza del soggetto da cui promanava l'atto quindi l'autorità e l'autorevolezza sono due cose diverse l'autorità è qualcosa che richiama i concetti di ordine di gerarchia di sanzione l'autorevolezza è qualcosa che invece richiama le caratteristiche del soggetto da cui proviene quella che io definisco l'indicazione operativa quindi se vogliamo lo scenario era abbastanza tranquillizzante cioè nessuno si metteva a fare studi sul sistema delle fonti del diritto amministrativo partendo dalla materia degli appalti pubblici poi a un certo punto invece interviene una comunicazione al Parlamento del mio amico Sergio Santoro che dice al Parlamento questa cosa guardate guarda caro legislatore che tu nell'attuare le direttive comunitarie visto che devi tenere conto di questa regoletta chiamata divieto di gold plating divieto di placatura cioè non puoi fondamentalmente adottare atti di rango eccessivo rispetto a quello che tu l'obiettivo che tu persegui e qualcuno si è preoccupato dinanzi a questo scenario per esempio Roberto Bim scrive un bel saggio dal titolo emblematico soft law no law e questo è un manifesto guardate che la soft law non è legge però qui dobbiamo poi intenderci sul concetto di legge perché secondo me l'equivoco nasce proprio qui è il problema delle etichette l'Italia è il paese della truffa delle truffe delle etichette fondamentalmente che cosa vuol dire lo andiamo all'etimologia delle parole la parola lo che corrisponderebbe al nostro legge e al latino legis sta a indicare fondamentalmente il vincolo nella lingua latina il verbo lego non vuol dire leggere vuol dire legare vuol dire vincolare cioè dare un'indicazione che è obbligatoria per il destinatario dell'indicazione stessa e quindi quando Roberto Bin dice soft law non law dà un'indicazione secondo me piuttosto precisa cioè non è che siamo al di fuori del sistema delle fonti noi siamo proprio al di fuori del sistema dei vincoli quindi va oltre se vogliamo e però invece interviene una nostra collega parlo al plurale perché ci sono altri colleghi che hanno la pazienza di ascoltarmi in udienza e stanno dando grande prova di tolleranza ascoltandomi anche oggi ringrazio in particolare la presidente Vigotti e la collega Antonia Tassinari per la loro presenza qui oggi qualcun altro la collega De Nictolis invece non ricordo se era il titolo del saggio o se era un passaggio dove dice soft law but law sarà pure soft però vincola e allora qui dobbiamo capirci cioè come stanno le cose cioè siamo ai consigli per gli acquisti o siamo al meccanismo della gerarchia non della gerarchia delle fonti attenzione al meccanismo della gerarchia la gerarchia è un meccanismo che io conosco perché sono un ex ufficiale della guardia di finanza il meccanismo gerarchico funziona così uno comanda uno esegue quello che comanda dice cosa si deve fare quello che esegue lo fa se quello che esegue non lo fa quello che comanda lo punisce è chiaro il meccanismo qui si può parlare essendo noi tutti amministrativisti o presunti tali si può parlare gerarchia di persone gerarchie di organi tutti i bei discorsi ma qui alla sostanza il problema è questo noi ci troviamo a combattere oggi con questi concetti soft law grazie a dio non sta scritto da nessuna parte lo utilizziamo qui abbiamo capito che questo concetto serve per dire attenti perché abbiamo a che fare con qualcosa di nuovo e su questo io sono sicuramente d'accordo c'è un quid novi non abbiamo detto ancora di che cosa stiamo parlando altra chicca devo dire che il legislatore si è superato strumenti di regolazione flessibile e qui siamo a livelli che devo dire sono altissimi secondo me cioè mi sembra tanto ricordate ibis redibis non morieri simbello no quello che dice alla sibilla e non si sbagliava mai basta mettere la virgola al posto giusto quindi soft law grazie a dio non sta scritto da nessuna parte strumenti di regolazione flessibile non si capisce che significa linea guida io quando penso alle linee guida mi viene in mente quel capolavoro insuperato che è la voce di Giannini circolare diritto amministrativo che si chiude con un bellissimo paragrafo falsi problemi in materia di circolare ecco io penso e questo l'ho già detto al convegno di per il trentennale ho detto io credo che il punto di partenza corretto sia quello uno degli spunti fondamentali della professoressa Ramaioli era come esercitare la discrezionalità come amo ripetere sempre in queste occasioni ci sono dei concetti potere discrezionalità interesse amministrativo giudice interesse legittimo giudice amministrativo per i quali vige il principio simul stabunt simul caden quindi quando si tratta di discrezionalità amministrativa o tecnica che come sapete condivide molto della discrezionalità amministrativa anche se sappiamo che uno attiene al fatto uno attiene agli interessi questo lo sappiamo ma che cos'è che le accomuna fondamentalmente l'apprezzamento per la soluzione la scelta e a me piace ripetere i limiti del sindacato del giudice amministrativo per esempio cioè che non si venga a chiedere al giudice amministrativo di fare l'amministratore perché il giudice amministrativo fa il giudice non fa l'amministratore poi qualcuno dirà è giudice nell'amministrazione l'ha detto la corte costituzionale io sono d'accordo però dobbiamo sempre intenderci su cosa significa giudice nell'amministrazione ecco secondo me il giudice amministrativo è quello che sa dove si deve fermare perché dico questo perché il giudice amministrativo è uno che un po' di discrezionalità tecnica e amministrativa ne dovrebbe capire se ne capisce in concreto questo non lascio decidere a chi legge le nostre sentenze quindi dicevo il tema fondamentale è cercare di capire di che cosa stiamo parlando oggi perché credo che tutti voi mi stiate ancora chiedendo ma di che cosa stiamo parlando cioè io quando prendo in mano le linee guida che ci devo fare cioè c'è scrive ma può deve che devo fare io cioè come mi devo porre davanti a questo tipo di atti ecco già il senso di spaesamento è totale se poi teniamo conto delle cose che ci ha detto la professoressa Ramaioli è ancora peggio perché ci viene detto che non esiste un tipo di linee guida ne esistono almeno tre tipi ad enictolis dice che sono addirittura sei ma leviamone tre perché tre dice che sono a rischio di incostituzionalità quanto meno per eccesso di delega nella migliore delle ipotesi diciamo che la summa di visio è linee guida ministeriale linee guida vincolanti linee guida non vincolanti sgombriamo subito il campo dalle linee guida cosiddette ministeriali che peraltro non mi risulta siano stati adottati né mi risulta che siano in fase di adozione ma non ho elementi in tal senso per dirvi sì o no però il consiglio di stato ha dato un messaggio molto tranquillizzante nei suoi pareri ha detto a me che non sia stato richiamato nell'articolo 1,5 della legge 11 la legge dele l'articolo 17 della 400 dell'88 non mi interessa per me quelli sono regolamenti ministeriali ergo la disciplina è quella dei regolamenti ministeriali quindi sgombriamo il campo da un tema che attiene al vecchio non al nuovo semmai verranno adottate le linee guida ministeriali di quell'articolo 1,5 molto verosimilmente l'iter di adozione sarà quello dell'articolo 17 con l'aggravamento procedimentale dei pareri delle commissioni parlamentari ma si arriverà all'adozione di un atto avente natura formalmente e sostanzialmente normativa formalmente perché è un regolamento ministeriale e sostanzialmente perché sappiamo tutti i regolamenti hanno un'efficacia innovativa dell'ordinamento quindi efficacia generale e soprattutto erga omnes quando invece ci avviciniamo agli altri due istituti cioè quelle linee guida vincolanti o non vincolanti che adotta l'ANAC senza ricorrere allo schermo del regolamento ministeriale e qui il problema si pone in tutta la sua complessità come la professoressa Ramaioli ci ha egregiamente rappresentato dicendoci attenzione l'istituto esiste in altri settori dell'ordinamento dobbiamo capire quindi se quelle considerazioni valide per altri settori dell'ordinamento possono valere anche per la materia degli appalti e allora sarebbe tutto diciamo tranquillizzato e qui secondo me cominciano i problemi la professoressa Ramaioli ha evocato un tema che secondo me è molto interessante quello della fuga dalle responsabilità molto interessante per esempio il ruolo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla luce del correttivo insomma dell'emanando correttivo perché io che sono stato esperto alla struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e non so qual è il ruolo del parere del Consiglio dei Lavori Pubblici il problema si pone soprattutto con riferimento alla questione del silenzio assenso per capirci il problema è lo scarico di responsabilità perché hai fatto così e me l'ha detto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dove dentro sapete che c'è professori universitari consiglieri di Stato avvocati dello Stato magistrati della Corte dei Conti cioè a crema fondamentalmente quindi l'autorevolezza deriva da un parere espresso da un organo collegiale che ha una composizione così composita di tecnici e giuristi parliamo di opere di un valore tale per cui la responsabilità per danno era reale del funzionario non è che comporterebbe l'esercizio del potere riduttivo della Corte dei Conti molto di più cioè parliamo di valori non commensurabili il valore dell'opera è la responsabilità individuale e allora quando cominciamo a parlare di responsabilità io penso che molti cominciano a drizzare le orecchie allora tentiamo di un po' di inquadrare il problema a chi si rivolge il mio intervento di oggi io potrei in teoria oggi parlare al Consiglio di Stato e all'ANAC potrei arrogarmi questo ruolo ma non me ne guardo ovviamente quindi a me non è che interessa tanto venire qui a parlarvi dell'ITER no? come devono essere adottate quale deve essere l'ITER se è giusto questo ruolo di advisor che è stato riconosciuto al Consiglio di Stato potrebbe interessarmi molto il tema che ha già posto la professoressa Romaioli ma come devono essere scritte queste linee guida è un tema che attiene quindi alla fase di elaborazione dell'atto vi dirò di tutto questo non mi occuperò allora dice beh tu che fai nella vita il giudice amministrativo allora ti occupi verrai qui a parlarci del sindacato del giudice amministrativo sull'atto adottato in contrasto con le linee guida almeno parli dei fatti tuoi insomma neanche questo vi dirò mi interessa in questo momento per due ordini di motivi primo perché il giudice amministrativo come amo ripetere è sempre l'ultimo a forse i problemi che i problemi chi se li pone in ordine di tempo la stazione appaltante o chi per essa insomma i suoi bracci armati e poi l'operatore economico poi l'avvocato poi alla fine arriva il giudice amministrativo che però una buona parola ce la mette come tutti sapete ecco allora io oggi mi voglio concentrare sulla stazione appaltante d'accordo cioè io oggi voglio parlare alle stazioni appaltanti che secondo me sono quelle che in questo momento sono presi da questo horror vacui praticamente diciamo io che devo fare e qui ripeto la professoressa Ramaioli ha evocato un tema a me estremamente caro appunto quello dell'esercizio della discrezionalità amministrativa il tema degli auto vincoli quindi stiamo parlando di questo stiamo parlando di una diversa modalità di limitazione della discrezionalità delle stazioni appaltanti derivante da norme del codice che non seguono lo schema preciso se A B perché se la norma del codice per esempio ti vieta di fare una cosa e tu la fai il risultato mi sembra cioè neanche serve scomodare il giudice amministrativo basta mio figlio che fa le scuole superiori se tu fai una cosa che va contro la legge hai fatto una cosa illegittima quindi non è che ci vogliano le linee guida il problema qual è? ce l'ha detto la professoressa Ramaioli il legislatore ha ricepito queste suggestioni che venivano dalla stessa autorità di vigilanza sulla possibilità di attuare il codice attraverso delle modalità diverse rispetto a quelle seguite fino a ieri perché? perché per fare il regolamento ci sono voluti quattro anni perché comunque il regolamento era un regolamento ricordo governativo non ministeriale quindi ingessava al che io che ho fatto il capo di un ufficio legislativo sapete che si fa prima a fare una legge in Italia che fa un regolamento lo sapete tutti no? quando c'è un problema urgente che fai? una volta esisteva il pre-consiglio adesso mi dicono che non esiste più tu andavi in pre-consiglio con due righe di decreto legge prendevi il primo pullman i pullman erano i decreti omnibus no? ma andavi sul pullman ci mettevi la norma ha risolto il problema addirittura mi ricordo il capo di un ufficio legislativo di origini calmani campanico chiamavo pullman neanche io non riesco a parlare di diritto essendo sempre serio non ci riesco è un mio grosso limite anche perché al 5 un quarto diventa ancora più difficile quindi il legislatore decide di provare un modo nuovo di limitare la discrezionalità delle stazioni appaltanti diverso dal passato e si inventa queste linee guida io mi chiedo se avesse le idee chiare nel senso legislatore oppure se questo è un work in progress cioè nel senso ma vediamo che viene fuori lanciamo il sasso nello stagno vediamo cosa si propaga come viene preso dai vari operatori l'ANAC il consiglio di stato in sede consultiva poi in sede giurisdizionale perché qui si rischia una dialettica tra sede consultiva e sede giurisdizionale i tarri in prima battuta l'accademia ci vediamo che cosa viene fuori allora secondo me noi abbiamo un punto di partenza però in questo momento non è che ci possiamo nascondere dietro un dito in questo momento noi dobbiamo partire a mio modesto avviso da quelli che sono i pareri che sono stati resi dal consiglio di stato con le commissioni speciali voi sapete che cosa significa commissioni speciali perché non si tratta della commissione della sezione atti normativi guardate che questo non è un dettaglio perché i pareri sono resi da commissioni speciali sono resi da organi consultivi ad hoc integrati da componenti delle sezioni giurisdizionali il messaggio è importante non stiamo parlando con cento lingue stiamo parlando con una lingua ci dice il consiglio di stato ecco perché mi consenta professoressa di dire i giudici di primo grado richiamano i pareri un parere reso da una commissione speciale vale di più di un parere reso dalle sezioni normative queste cose non leggete sui libri le dico io dice tu come le sai un altro paio di mani se poi vi volete fidare fidatevi se non vi volete fidare non vi fidate insomma allora dice da dove dobbiamo partire per ricostruire questo tema perché ci ha detto già la professoressa Ramaioli mentre la delega almeno dice linee guida anche vincolanti io mi sono fatto col famoso trova quella meravigliosa funzione che usiamo tutti dico ma andiamo a vedere un po' dentro il codice magari se gli è scappato al legislatore fate una cosa fate e trova sul vecchio testo quello prima che cioè sulla bozza sullo schema e sul testo definitivo nella bozza c'era c'era scritto quando erano vincolanti nel testo definitivo non c'è più perché il legislatore ha detto io mi pongo sto problema di dire la responsabilità di risolvere il problema di che cos'è la software non si ha mai non si ha mai allora la legge delega anodina anche vincolante chiunque abbia lavorato in un ufficio legislativo sa che la parola anche è una parola magica io mi ricordo discussioni di ore risolte beh il veltroniano ma anche no? discussioni di ore risolte con una parola ah no? quindi il legislatore se ne lava le mani dice vabbè ci penserà il governo col decreto attuativo ma neanche per idea dopo aver letto il parere del Consiglio di Stato cancellano ogni riferimento però il diavolo si dice che fa le pentole e si scorda i coperchi si scordano dell'articolo 71 perché che fanno prendono il vecchio 64 bis la norma sui banditi la copiano non c'è scritto vincolante quindi controva e sostituisci non funziona l'operazione e gli scappa e scappa il problema che dice questo? è una norma bellissima io ANAC faccio il bando tipo o meglio il legislatore dice all'ANAC tu fai il bando tipo poi l'amministrazione se vuole si discosta quindi io che l'amministrazione la conosco immaginatevi un ruppo di paese come lo chiamo io l'ANAC sapete la composizione dell'ANAC? la foto di Cantone che scende dall'aereo con Renzi Cantone a pranzo con Obama e quindi il ruppo di paese dice no Cantone ha detto questo allora è sbagliato secondo me ma questo è fantascienza a mio avviso cioè io ho una visione realistica del diritto non ho una visione io non me ne voglia professore io non sono un accademico cioè io quando vedo l'università solitamente vado all'altra parte cioè mi giro scappo comincio a correre mi rincorrono ma c'è una visione pratica anche perché avendo fatto tanta formazione agli operatori cioè l'operatore io lo so che dice ma mi dite quello che devo fare voi ditemi quello che devo fare e io lo faccio d'accordo? cioè non mi pagano per discostarmi dai pareri dell'ANAC cioè io questo è quello che voglio dire allora secondo me il consiglio di Stato non è proprio un organo nato ieri il consigliere di Stato vi assicuro qui ne abbiamo uno qui tra noi e vi assicuro sono fonti di saggezza i consiglieri di Stato dicono fondamentalmente questo nei vari pareri dicono guarda allora hai presente il concetto di soft law strumenti di regolazione flessibile linea guida ecco prendilo incartalo e buttalo non c'entra niente con il nostro ordinamento quindi se volete modestamente seguire il mio punto di vista prendete tutti questi concetti e dimenticateli nella famosa dicotomia tra soft law no law e soft law but law io propendo l'avrete capito per soft law but law ma ecco il cuore del problema che vuol dire battelo cioè quella parola law è legge o è vincolo è legge inteso come legge formale ordinaria o atto ad essere equiparato quantomeno ai fini del sindacato dell'attività amministrativa perché davanti ai giudici amministrativi sono notoriamente ignoranti includono la violazione di legge e la violazione di regolamento o forse i giudici amministrativi sono troppo intelligenti io dico sempre no il giudice amministrativo è uno che sapete chi è il giudice amministrativo è uno che ti dice leggi che hai letto che hai capito questo e non hai capito niente adesso te lo dico io ma che sta dicendo consigliere scusate ma voi non avete mai letto la professoressa mi correggerà no non avete mai letto nelle sentenze dei giudici amministrativi ripetere in modo quasi ossessivo il bando e la lex specialis questo giudice amministrativo è ignorante proprio cioè etichetta un atto amministrativo un termine di legge violando peraltro quella norma del codice di procedura civile applicabile anche al processo amministrativo che vieta l'utilizzo di lingue diverse della lingua italiana ecco il motivo per cui io in modo ossessivo nelle mie sentenze metto tra virgolette parole della lingua inglese tedesca latina in cursivo perché sto scientemente violando il codice di procedura civile allora sto giudice amministrativo è ignorante quando definisce il bando di gara l'ex specialis no semplicemente non ha in mente la legge ha in mente il verbo lego è quello che usa il latino infatti cosa dice il giudice amministrativo alla stazione appaltante stai a corte se tu fissi una regola nel bando e poi ti discosti il provvedimento è illegittimo non per violazione di legge perché il bando è un atto amministrativo generale ma per eccesso di potere perché non è logico e razionale e soprattutto va a detrimento della par condicio che tu prima ti dà una regola e poi la applichi come meglio ti pare non ti piace più la regola agisci in autotutere a nulla di che hai adottato un bando illegittimo e ne fai uno nuovo ma non è che ti fai la regola e poi non la sede il bando quindi io come lo chiamo utilizzando un concetto tratto dalla teoria generale del diritto perché in realtà a me del diritto amministrativo mi interessa relativamente a me interessano tre cose la teoria dell'interpretazione la tecnica normativa è la teoria la tecnica dell'interpretazione la tecnica normativa è per l'appunto la teoria generale del diritto io il bando di gara lo chiamo autovincolo forte autovincolo perché perché l'amministrazione si autolimita in modo forte che vuol dire in modo forte quando si è data una regola non si può più discostare da quella regola e allora l'ho detto il diavolo fa le ventole e si scorda i governi il legislatore si scorda l'articolo 71 che dice il 71 l'anac che autorevole per ora noi siamo ancora a livello dell'autorevolezza non siamo ancora a livello dell'autorità l'anac fa la regola tu se vuoi ti discosti in realtà attenti devi motivare e gli ho detto il responsabile unico procedimento di paese dice all'anac si tu hai detto di fare così ma secondo me è meglio fare così io sono curioso di vederle queste cose tanto è vero che il mio amico Fabio Cintioli un bel convegno si è ampiamente diciamo dilungato per spiegare se lo scostamento è uno scostamento in fatto o uno scostamento in diritto evocando addirittura la sentenza Fratelli Costanzo che conosciamo tutti quella che dice che l'effetto utile del diritto comunitario deve essere assicurato ancora prima che dal giudice che non va in corte costituzionali e neanche in corte di giustizia disapplica direttamente le norme interne l'effetto utile deve essere assicurato addirittura dall'amministrazione e sappiamo che l'amministrazione passa le sue giornate a disapplicare norme nazionali in contrasto con quelle comunitarie è un'attività come no nella quale si dilettano tutte le stazioni appaltate però proprio quella norma ci dice che le linee guida con la soft loan non hanno niente a che fare io utilizzo il concetto di eterovincolo debole contrapposto al concetto di eterovincolo forte cos'è l'eterovincolo forte? le linee guida vincolanti che vuol dire linee guida vincolanti? vuol dire che l'anac dice che si fa così e tutti fanno così oggi si sta tanto discutendo no se questo eterovincolo forte abbia natura normativa o no guardate che il problema è serio il problema è serio perché sapete tutti che lo statuto studiatevi il libro della professoressa lo statuto dell'atto amministrativo generale non è quello del regolamento il regolamento è atto soggettivamente amministrativo e oggettivamente normativo l'atto amministrativo generale è soggettivamente e oggettivamente amministrativo ma una pluralità di destinatari non preventivamente definita se no diventa un atto plurimo io sono sempre disponibile alle correzioni da parte dell'accademia quindi dicevo venne guida vincolante le vogliamo qualificare come un atto di regolazione come dice atto di regolazione proveniente da un'autorità indipendente come dice il consiglio di stato nei suoi pareri o vogliamo seguire la tesi lanciata a Varenna da morbidelli e ripresa qualche giorno un paio di mesi fa proprio da cintioli quella del potere regolamentare delle autorità indipendenti potremmo fare un convegno solo sulla norma sulla pubblicazione perché qualcuno potrebbe dire ah ecco vedi vengono pubblicati come i regolamenti allora sono regolamenti ma no si potrebbe dire allora non c'era bisogno della norma se è stata fatta la norma è proprio perché non sono regolamenti sono i famosi argomenti anfibologici non ci portano da nessuna parte a noi oggi che ci interessa questo problema non ci interessa affatto cioè che il vincolo derivi da un atto amministrativo generale o da un regolamento a RUP di paesi di Grazia a che gli importa non importa solo nulla non gli cambia niente la sera va a letto tranquillo lo stesso tra virgolini se va a letto tranquillo uno che fa il RUP oggi poi i consigliari di luna quindi attenzione linee guida vincolanti grazie al cielo se qualcuno ci dice che sono vincolanti per esempio il consiglio di stato nei suoi pareri dice secondo me queste linee guida sono vincolanti risolvendo l'equivoco che si pone in ragione della formulazione delle norme del codice che indirettamente ci dice la professoressa Ramaioli ci lasciano intendere se le linee guida sono vincolanti o no ecco perché la giurisprudenza si richiama ai pareri del consiglio di stato perché almeno hai qualcuno che autorevolmente autorevolezza ci ha illuminato sulla natura dell'atto quindi dicevo quindi sulle linee guida vincolanti per la nostra stazione appaltante nulla a questo sta scritto che si deve fare così e così si farà e le linee guida non vincolanti allora dice ma da qualche parte sarà stato teorizzato questo autovincolo questo eterovincolo come l'ho chiamato io eterovincolo debole guardate da qualche parte è stato teorizzato l'autovincolo debole fatemi ritrovare il punto nella mia chiamarla relazione farmi dei complimenti che ovviamente non merito ecco ha legato quattro al piano nazionale anticorruzione 2013 credo l'abbiamo letto in Italia in dieci persone parole straordinarie che quindi consentitemi di leggere contrariamente a quello che faccio solitamente l'allegato quattro al piano nazionale anticorruzione 2013 prevede come misure della prevenzione della corruzione ma che ci azzeccano le misure della prevenzione della corruzione e il caso vuole che l'ANAC ci abbia questi due cappelli no? quindi è misura di prevenzione della corruzione la regolazione dell'esercizio della discrezionalità interpolazione di chi parla tecnica o amministrativa nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività altra interpolazione nel gergo dell'anticorruzione i procedimenti sono una specie di attività amministrative quelle regolate dal diritto amministrativo i processi sono quelli regolati dal diritto privato generale o speciale perché sapete che l'amministrazione ha un suo diritto privato speciale quindi ripeto è misura della prevenzione della corruzione l'autoregolazione l'autoregolazione da parte dell'amministrazione dell'esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività udite udite mediante circolari o direttive interne ricordate Giannini in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato punte virgola creazione di flussi informativi su deroghe e scostamenti flussi informativi andatevi a riprendere la 190-2012 la norma sul credo fosse al comma 9 dell'articolo 1 contenuto del piano triennale di prevenzione della corruzione obblighi informativi nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione quindi guardate com'è rafforzato lo scostamento non solo obbligo di motivazione ma addirittura obbligo di comunicazione dello scostamento al responsabile della prevenzione ergo se io oggi dovessi scrivere un piano triennale di prevenzione della corruzione di un ente pubblico direi che quando il RUP si scosta dalle linee guida dell'ANAC non deve solo motivare ma lo deve comunicare anche al responsabile della prevenzione della corruzione dice vabbè consigliere ma che ci azzecca quello che lei sta dicendo sul autovincolo debole con l'etero vincolo debole ci azzecca perché sono la stessa cosa tu ti puoi discostare ma devi motivare che è una cosa che i giudici amministrativi vanno dicendo da qualche mese sostanzialmente vorrebbe dire un paio di centinaia di anni utilizzando un orizzonte temporale un po' più aperto e allora tu dici ma ma che soft law ma che flessibile io comunque sono vincolato o perché devo fare quello che mi viene detto o perché posso anche non fare quello che mi viene detto ma se non lo voglio fare devo motivare l'amministrazione probabilmente nel suo piano triennale di prevenzione della corruzione dirà che immediatamente quello scostamento viene comunicato al responsabile della prevenzione della corruzione che subito mi telefona e mi dice oh ma che stai facendo chicca delle chicche discostarsi senza motivazione o a me verrebbe da dire con una motivazione inadeguata potrebbe configurare un eccesso di potere e non è che per caso l'articolo 211 comma 2 potere di raccomandazione si applica anche in questo caso cioè che si sveglia l'ANAC va dal magari previa telefonata del responsabile della prevenzione della corruzione si sveglia l'ANAC e dice senti un po' che hai fatto tu ti sei discostata dalle mie linee guida con quella motivazione allora guarda io ti do paio di giorni l'avete letto il 211 comma 2 a chi va la sanzione del 211 comma 2 all'amministrazione no all'amministratore quindi sanzione pecuniaria indirizzata da questa autorità di regolazione all'amministratore persona fisica io praticamente ho concluso perché a questo punto devo fare soltanto una sommatoria ma se io ti dico quello che devi fare poi se non lo fai ti punisco io non sono solo autorevole io sono diventato un'autorità quindi in Italia gli appalti si fanno come dice l'ANAC e se non si fanno come dice l'ANAC l'ANAC ti punisce poi quello che succederà davanti al giudice amministrativo è un altro film facciamo un altro incontro ne riparliamo aspettate le sentenze però intanto io così la vedo siamo molto lontani dalla soft law la soft law nell'accezione classica andate su internet digitate soft law e troverete montagne di studi non c'entra niente con tutte le cose di cui stiamo parlando ma tu come al solito mi dicono hai una visione estremistica sì perché è una visione realistica e so come ragiona l'amministratore se rischio la segnalazione del responsabile della prevenzione della corruzione se rischio di prendermi una sanzione dell'ANAC ma chi me lo fa fare ma chi me lo fa fare quindi facciamo tutti gli convegni gli schemi scomodiamo la teoria generale delle fonti io molto più modestamente mi sono permesso di utilizzare al nostro convegno per i trent'anni il concetto di formante quindi ricordatevi questi due concetti circolare Giannini formante Rodolfo Sacco Sacco è un comparativista oltre che è un grande civilista è un grande giurista utilizza il termine formante per utilizzare un concetto neutro quindi di teoria generale che è stato utilizzato anche da qualcun altro al convegno per i trent'anni se non mi ricordo male dalla professoressa Cacciavillani che tradì io glielo dissi tradì in quel modo la sua formazione di comparativista io ho utilizzato il concetto di formante per dire che l'apparato messo su dal decreto 50 non ha determinato un'evoluzione del sistema delle fonti del diritto in materia di contratti pubblici no non c'entra niente ma ha sicuramente comportato un'evoluzione del sistema dei formanti cosa sono i formanti sono appunto quegli atti che informano l'attività di un altro soggetto il concetto di formante serve proprio per mettere a confronto ordinamenti di similò e commollò ecco l'approccio del comparativista in che senso ha modificato i formanti sono stati previsti nel codice atti come le linee guida che sono sempre vincolanti si distinguono solo per la forza del vincolo vincolo forte vincolo debole quindi il codice ha modificato il sistema dei formanti i vincoli per la stazione appaltante consentitemi un piccolo dettaglio se condividiamo l'inquadramento del consiglio di stato di questi atti come atti non normativi il formante a chi si rivolge all'amministrazione alla stazione appaltante non all'operatore economico non al giudice il giudice amministrativo non cita le linee guida perché non è vincolato dalle linee guida il giudice amministrativo è soggetto alla legge non alle linee guida dell'anaca è l'amministrazione che è soggetta alle linee guida dell'anaca è cambiato il sistema dei formanti non è cambiato il sistema delle fonti lo so vi sto sconvolgendo l'esistenza probabilmente dice no consigliere stia tranquillo stanotte dormiremo tutti tranquilli lo spero mi capitò la prima volta di parlare a un convegno un convegno organizzato dal procuratore militare in Telisano dell'epoca io ero onoratissimo chi è? sì alla fine del convegno mi venne un generale mi disse consigliere io per un verso la ringrazio per un altro verso devo dire che prima avevo delle certezze adesso ho solo dubbi e ho detto allora forse le mie parole non sono state inutili vi ringrazio per l'attenzione perché qui c'è scritto falla finita sostanzialmente e mi scuso con l'avvocato Tita per avere ovviamente la passione del tema meritava certamente anche questo approccio molto molto puntuale anche molto ficcante in merito a questo oggetto in realtà io non posso che su questo filone inserirmi cercando come insomma è mia abitudine di cogliere alcuni aspetti che evidentemente pongono all'attenzione appunto degli operatori e immediatamente dopo le stazioni appaltanti ma per dire quegli operatori che si confrontano ogni giorno con questo quacervo di norme alcune considerazioni che evidentemente non vorranno per l'ennesima volta essere sicuramente tranquillizzanti ma certamente vorranno essere un contributo a una riflessione che sempre di più ci dovrebbe essere io dico a tutti i livelli parto in questo mio intervento da un dato che è abbastanza di costume ma che spesso abbiamo fra di noi scambiato come preoccupazione come si dice le linee guida affascinano affascinano al punto che la provincia ha ritenuto opportuno dotarsene perché nella legge provinciale 2 con le modifiche da ultime all'articolo 4 ha previsto che la provincia promuove la stipula di convenzioni con l'ANAC per elaborare linee guida mi fa sorridere quanto ricordava il consigliere anche dotate di efficacia vincolante in questo caso se la sono ricordato per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e ovviamente e con gli atti a valenza generale approvati dall'ANAC qui probabilmente quella sindrome da amministrazione di consapevolezza del vincolo è arrivato al punto che il legislatore provinciale pensa di elaborare linee guida nel rispetto delle linee guida il che mi dà l'idea che ha fatto un passo un po' azzardato nella teoria di quella che è anche lo statuto di autonomia stesso e delle competenze che pure sono assegnate alla provincia autonoma di Trento nella materia della legislazione in materia di contratti e a questo riguardo aggiungo un'ultima peore battuta che in realtà non è legata a questo tema specifico ma che direttamente si inserisce in questo tema se solamente adesso troviamo il foglio la recentissimamente la commissione dei dodici è apparso sul sulle notizie di stampa ha varato una norma che tutto sommato è attesa dal punto di vista della funzione ad incrementare le competenze statutariamente assegnate alle province di Trento e di Bolzano mi limito a leggerne il testo anche perché non è facilmente rinvenibile e questo testo voi sapete la commissione dei dodici è quell'organismo che esprime il parere vincolante sugli schemi di decreti che poi dovranno essere assunti dal governo come iter per l'incremento o comunque il dettato delle norme di attuazione questo articolo approvato a febbraio di quest'anno quindi dopo le linee guida dopo questa norma introdotta a modifica dalla legge 2 cosa recita le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale mi verrebbe da domandare se in questo rientrano anche le linee guida ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto comunitario degli appalti e delle concessioni le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici compresa la fase della loro esecuzione se qualcuno aumente la corte costituzionale a più riprese su questo argomento sorprende questa definizione relativa ai lavori servizi e forniture attenendoci al principio tra l'altro a cancellato di non sovraregolazione cioè l'articolo di non divieto di non eccessivamente regolare e poi vabbè sorvolo sul secondo comma che in realtà sono gli interventi per agevolare la partecipazione a parte delle piccole e medie imprese parto da qui perché secondo me c'è qualcosa che non ha e non torna inizialmente c'è un problema che al di là della valenza di etero vincolatibilità o diciamo forte o debole in realtà io riscontro che il testo impostato del codice dei contratti nello spirito di soft law in realtà ha introdotto e si è dotato di uno strumento quello delle linee guida che in realtà per quello che esse esprimono nei contenuti è e si assume un carattere eversivo di una serie di paradigmi che evidentemente erano noti agli operatori o meglio pensavano di essere noti perché parto dal primo considerazione innanzitutto quando si ragionava sulla impostazione del vecchio codice il 163 tutti come è stato ricordato avevamo presente la legge il regolamento le interpretazioni che venivano dalla giurisprudenza pensiamo il florileggio di adunanze plenarie che insomma avevano tentato a più riprese di colmare delle vuoti o quantomeno discutibili diciamo letture delle norme e l'ANAC o meglio prima WCP ANAC dopo in realtà si limitava in quella fase ad un ruolo che era più proprio di un'autorità indipendente di authority e che quindi quando era chiamata in campo pensiamo ai vecchi bandi tipo aveva avuto il ruolo semplicemente di compilare il manuale appunto di istruzioni per l'uso utilizzando però come base il compendio normativo esistente non aggiungendo e togliendo norme ma semplicemente organizzandole secondo una visione che fosse appunto quella tipo del bando tipo per esempio per dare diciamo un'uniforme applicazione sul territorio nazionale di quello che erano le discipline normativa vigente su questo argomento noi sappiamo che a sua volta la provincia aveva tentato di assumere anch'essa quel potere di bando tipo similmente a quello che oggi pensa di ottenere con lui le proprie linee guida e lì la corte costituzionale con la sentenza 187 aveva sostanzialmente azzerato questa possibilità affermando che la norma del codice dei contratti vecchio che indicava la possibilità di emanare banditipo affondava la propria diciamo il proprio potere normativo in una competenza esclusiva quella della tutela del mercato della concorrenza sulla quale secondo i paradigmi ormai della materia non materia o antimateria come ogni tanto lo consideravo io dei contratti pubblici sostanzialmente non valgono le regole di competenza generali valgono l'oggetto sul quale effettivamente quella norma andava a essere la finalità di regolazione sulla scorta di quel principio sulla scorta di quel principio avevamo un quadro nel quale evidentemente però le fonti erano assolutamente chiare esistevano sì i famosi pareri di precontenzioso e tutto quello che scriveva l'ANAC ma di fatto anche per diciamo i risultati cui essi aggiungevano spesso contraddittori a distanza di breve periodo non assumevano quell'autorità quell'autorevolezza tale da poter costituire paradigma normativo in ogni caso esisteva la tutela della DPR 400 per quanto riguardava i rapporti degli atti regolamentari soprattutto in relazione all'articolo 117 per quanto riguardava la potestà regolamentare assegnata vuoi allo Stato vuoi alle province o alle regioni di istituto speciale nelle materie di rispettiva competenza sappiamo altresì perché questa questione ormai risolta che la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la potestà normativa della provincia di Trento come quella di Bolzano in materia di lavori pubblici dei soli lavori pubblici è comunque tratteggiata nello Statuto che non è in realtà tolto di mezzo dalla normativa diciamo dettata dallo Stato lo Stato in realtà ha sempre tentato di riappropriarsi di una materia di questo genere utilizzando fino in fondo appunto gli elementi legati alla quella competenza non materia della tutela della concorrenza dell'ordinamento civile che sempre anche la Corte Costituzionale li ha sempre riconosciuto allo Stato ebbene le linee guida vincolanti cioè quelle che non assumono lo schema di regolamento ministeriale ma che sono proprio linee guida e io dico intanto quelle vincolanti farò un esempio quella ad esempio sui commissari è vero che non è immediatamente applicabile però quella per quanto riguarda i principi di composizione delle commissioni è immediatamente vincolante perché esprime e declina un principio che è nel codice e qui mi sorge il primo grosso problema quella linea guida non è tra virgolette sindacabile secondo il percorso tipico del regolamento di PR400 perché non ne assume la connotazione perché è solo linea guida si potrà dire che nella sostanza lo è però in realtà il principio delle fonti non è così sicuro nel dire che in questo caso possa essere sindacata in quell'ambito abbiamo appena appreso dal consigliere che alla fine trattandosi di direttive linee guida vincolanti scordiamoci anche laddove fossero sarebbe problematico ma qui non ce lo poniamo neanche il problema è vincolante ma è vincolante anche nella misura in cui quella linea guida applica in questo abbastanza pedissequamente la disposizione del dettato del codice adesso si pone il problema l'articolo 21 della legge provinciale 2 dice che i commissari delle commissioni tecniche ad eccezione del presidente devono essere esterni la linea guida dice che tutti i componenti devono essere esterni compreso il presidente e allora io mi pongo il primo problema come diceva il consigliere le amministrazioni che fa perché c'è un problema perché a livello provinciale la difesa della competenza normativa sarà tale per chi dire eh no vale la legge provinciale ma la legge vale per legge ma le linee guida valgono per linee guida a mio avviso e il potere di sindacato e di sanzione collegato come elemento di come dire dell'efficacia della norma la famosa capacità della norma di essere efficace perché munita di sanzione certa e sicuramente non abdicabile è assicurato salvo che qualcuno non vada a fare la famosa convenzione con le linee guida dell'ANAC per dire che da noi le linee guida avranno un carattere provinciale e che potranno salvare l'impianto della norma ma dico di più faccio un altro esempio sempre provocatoriamente le linee guida sugli affidamenti degli incarichi di progettazione il consiglio di stato ci dice che sono quelle linee guida non vincolanti in realtà assomigliano molto alle linee guida del bandotipo di una volta perché anche in quel caso forniscono istruzioni per l'uso alle stazioni appaltanti per diciamo bandire e conseguentemente affidare gli incarichi di progettazione facendo tesoro dell'impianto normativo del codice non aggiungono in quel caso normativa nuova ma fanno un manuale appunto tipo quello del bandotipo e qui c'è un problema però perché quelle linee guida parlano di affidamenti diretti sotto i 40.000 euro con procedura di selezione da 40 a 100.000 e poi dice come dice il codice da 100 a 208.000 o al di più per i settori speciali applicando in toto la disciplina quale fosse l'appalto sopra soglia l'unica differenza è la pubblicità il problema è grosso perché a questo punto mi si pone il primo problema è vero non sono linee guida non vincolanti ma esprimono la vincolatività di una norma che evidentemente trova contraddizione con una norma provinciale che non è neanche di legge ma è di regolamento perché è solo nel regolamento di attuazione della legge provinciale che si dice che da noi fino a 40.000 si va diretti e poi da 40.000 fino alla soglia comunitaria si fa le procedure tra virgolette negoziate con i sette candidati tra l'altro problemi anche di principi di rotazione ma questo lo lasciamo di contorno e allora mi pongo il problema che saranno pur non vincolanti quelle direttive ma è tanto simile a quel bando tipo dove evidentemente qualcuno se vuole dettare una norma diversa rischia di attingere o toccare un'area di disciplina quale quella della concorrenza e avrei qualche problema a dire che gli affidamenti di incaichi di progettazione non sono funzionali alla concorrenza è materia sottratta alla competenza legislativa primaria faccio un ulteriore esempio direttiva scusi linee guida il labsus non è tanto cali perché in realtà è molto vicino come concetto alle direttive comunitarie sono direttive ma sono vincolanti la linea guida sul responsabile del procedimento qui c'è una sorta di cortocircuito lo segnala anche il Consiglio di Stato perché per quanto riguarda il responsabile unico del procedimento si segue la strada della linea guida mentre per quanto riguarda il direttore dei lavori che ne è direttamente in vicinanza o direttore dell'esecuzione lì si pone il problema del regolamento ministeriale è uno dei pochi nei qua che stanno viaggiando perché la linea guida di base è stata emanata il Consiglio di Stato ha dato il suo parere e siamo in attesa del famoso decreto del Ministero Infrastrutture ebbene con riferimento a RUP invece siamo nel campo delle linee guida vincolanti se qualcuno è andato a leggersi quella disposizione essa contiene una disciplina che se io utilizzo i paradigmi classici di rapporto tra potestà legislativa delle regioni di statuto speciale e province autonome soprattutto in campo di organizzazione e quello che è il testo della disposizione in materia di RUP io penso che le amministrazioni che sono qui presenti sanno bene che quello non lo conoscono il RUP nazionale e tantomeno le linee guida ma sono pure esse vincolanti e anche qui si apre un vulnus nel rapporto tra potestà di legislativa primaria e un potere a questo punto dell'autorità infatti sarebbe sotto spontaneo il problema di dire ma quale sarebbe lo strumento di tutela perché se noi ci trovassimo di fronte a uno strumento normativo classico il DPR 400 si potrebbe pensare un'impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale ma ahimè il Consiglio di Stato ha battezzato quelle linee guida come atti di regolamentazione autoregolazione o regolamentazione di autorità indipendenti e quindi al di là dell'impugnativa di fronte al Tar del Lazio insieme all'atto probabilmente diciamo esecutivo come qualsiasi atto amministrativo generale in questo caso dell'autorità indipendente che ha sede e competenza funzionale nel Tar del Lazio il problema di sollevazione del profilo di incostituzionalità diventerebbe complicato anche perché dovrei andare a chiamare una incostituzionalità della legge delega appunto come aveva diciamo in qualche modo suggerito Chiti nel suo primo contributo ma io mi sono posto il problema anche di un eventuale conflitto di attribuzioni tipico strumento di tutela delle province e regioni contro i poteri di conflitto di poteri dello Stato purtroppo qui c'è un problema la Corte Costituzionale nelle poche e rarissime pronunce in materia di conflitti di attribuzione tra autonomie in questo caso regioni e statuto speciale e autorità indipendenti sono molto poche le pronunce l'ultime attorno al 2000 e in questo caso guardate e quindi sarebbe l'ipotesi per poter chiamare di fronte alla Corte Costituzionale col conflitto di attribuzioni le attribuzioni dell'ANAC nella misura in cui quelle attribuzioni vengono a lidere lo statuto di autonomia nelle competenze il problema è che la Corte dice ma l'autorità in realtà non aveva l'idea della nostra ANAC infatti su questo poi aggiungo ha detto ma non esiste possibilità perché le autorità indipendenti difettano di soggettività perché e qui si apre il vero problema quelle autorità non hanno la possibilità di declinare il potere diciamo di indirizzo politico amministrativo che è proprio dello Stato attraverso le sue leggi sono soggetti che regolamentano il mercato ma non sono soggetti che possono da soli diciamo produrre norme nuove che creano anche situazioni giuridiche nuove e qui il problema è che l'ANAC invece nella configurazione del codice con un'operazione che probabilmente era perfettamente nelle aspettative anche di Cantone dal suo punto di vista è riuscito diciamo a costituirsi un diciamo un potere che come qualcuno ha suggerito fa sì che sia in discussione il potere la configurazione di autoriti perché se è vero che la domanda che si facevano ai tempi è chi controlla le autoriti diceva chi controlla le autoriti ma che questo è stato risolto perché tutto sommato le autoriti per come erano concepite e normalmente sono ancora concepite salvo l'ANAC avevano quelle forme diciamo di come dire controllo sociale diffuso attraverso la comunicazione attraverso diciamo le relazioni agli organi parlamentari e anche il potere anche di nomina che veniva anche diciamo di chi le presedeva nel caso dell'ANAC questo tipo di connotazione è venuta meno in realtà l'ANAC nel momento in cui ha un potere normativo innovativo e ne abbiamo la prova leggendo tutte le linee guida esse sono infatti spesso come dire contrappuntate dal Consiglio di Stato per dice attenzione perché molto spesso al di là di essere discorsivo che non si capisce se sei precettivo o non sei precettivo non dimenticarti che non è che mi piaccia molto quando tu mi parli che sei di integrazione del testo normativo perché l'integrazione del testo normativo fa sì che tu diventi un soggetto di produzione della norma il che nella tua configurazione di autorità di vigilanza rischia di essere un fuorigioco un fuorigioco perché poi sei anche il soggetto che sanziona e quindi se succede che in uno stesso soggetto detti la norma che poi vai a controllare a sanzionare beh sei ancora meglio del governo o del legislatore che le leggi le fa ma non le può controllare quanto meno sanzionare è qui secondo me il grosso problema che si pongono e si pone di fronte alle linee guida se da un lato il legislatore provinciale vuole addirittura tentare di allargare di allargare le proprie competenze vedremo se questa norma mai potrà trovare accoglimento nel Consiglio dei Ministri per dare via l'iter di varo della norma di attuazione ma se dovesse esserlo a questo punto non so cosa succederà perché perché qui si aprirebbe l'ulteriore la forbice si aprirebbe più che chiudersi perché addirittura ha una fonte di competenza provinciale che si amplia idealmente avremmo un'autorità che quel potere lo continua a esercitare con una funzione vincolante in barba alle competenze perché evidentemente quando l'ANAR ti fa la linea direttiva la linea guida vincolante non ha minimamente presente un rapporto delle legislazioni provinciali o regionali rispetto alla legislazione statale applica dall'A alla Z legislazione statale e qui mi riallaccio alla sentenza 187 sui bandi tipo in quella sentenza la corte costituzionale dice alla provincia non puoi deliberare su bandi tipo perché questa è una materia nella quale tu non hai competenza ma allora il bando tipo era applicazione della legge nello Stato non c'era un bando tipo della VCP che prendeva atto delle diversità e a volte significative della legge provinciale ecco forse il tentativo di crearsi delle linee guida perché altrimenti cosa succede succede che come per il bando tipo il bando tipo faceva riferimento sulla legge nazionale e quindi la peculiarità della legislazione provinciale dove andava a finire o nella discrezionalità delle amministrazioni che in barba al bando tipo facevano i bandi fin dove è possibile col bando tipo e poi applicando la legislazione provinciale ma in questo caso la motivazione poteva essere sì perché mi devo discostare perché io ho una legislazione diversa ma nel momento in cui dice questo deve anche fare un'attenzione nei rapporti che possono esistere nelle competenze quello che volevo dire in buona sostanza e mettere diciamo a nudo in questo mio ragionamento è questo le linee guida costituiscono al di là di quelle formule che sono assolutamente tra virgolette ortodosse le formule di regolamenti piuttosto le linee guida non vincolanti che assomigliano molto a quel potere di direttiva che sempre è immanente in autorità che possono evidentemente fornire indicazioni alle quali il soggetto può riferirsi e se si riferisce fa bene se non si riferisce non ha una sanzione il problema è che qui spesso c'è un potere anche di sanzione indiretto che come ha detto benissimo il consigliere rischia di far sì che tutte siano vincolanti alla fine della fiera ma il problema si pone soprattutto per le linee guida vincolanti perché attraverso quello strumento si rischia di avere un processo di legificazione autonoma superiore per grado e per efficacia anche delle stesse ambiti di potestà legislativa perché l'unico strumento che si può vedere sarebbe quello del conflitto attribuzione ma allora vorrà dire che questo dovrebbe essere innescato e forse a questo punto la Corte Costituzionale alla luce della nuova configurazione dell'ANA potrebbe rivedere la posizione almeno per essa del difetto di soggettività per le stesse ragioni per le quali all'epoca ne aveva appunto fatto l'affermazione contraria con riferimento a quelle in materia di tutela della concorrenza della tutela dell'editoria e tra l'altro un paio erano addirittura promossa dalla provincia autonoma di Trento due di questi ricorsi e di conflitti di attribuzione oppure la via di un ricorso diciamo per incostituzionale d'età aborigine dell'articolo della lettera TT insomma dell'articolo 1 della delega perché è la matrice di tutte le problematiche è evidente poi che io devo anche ricordare circostanza che personalmente non ho trovato ancora superata al di là di questa disposizione della ipotesi di norma di attuazione che qualcuno quando io glielo ho fatto dire ha avuto qualcosa da infatti dice ma come è strano dice il codice nuovo che tutte le norme del codice sono esplicazione dell'articolo 2 le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia concorrenza e ordinamento civile nonché nelle altre materie in cui è riconducibile lo specifico contratto questa disposizione non è attenuata dai commi successivi è un salto di qualità che io ricordo è tale per cui questo è un elemento rafforzativo delle linee guida perché qui non si sta dicendo è vero che questa è una norma ricordato il Consiglio di Stato nel parere iniziale sullo schema di decreto è folle perché è tornare indietro all'autodeterminazione all'autoreferenzialità ma intanto io l'ho scritta adesso a voi la palla di dire che non è così e allora le linee guida che sono all'interno di questo percorso del codice asfondano ulteriormente aramendono un ulteriore rafforzamento quindi quando noi adesso abbiamo di fronte le linee guida e i contenuti delle stesse io non sono così sono da un lato perfettamente d'accordo col consideramento in cui le mosse devono applicare però il problema è che si apre su questo scenario una mancata a mio avviso considerazione o se c'è stata dovrà essere approfondita perché se la logica è che vado a fare le convenzioni con ANAR per fare delle linee guida in casa che rispetto le linee guida non so come se ne esce ma in più queste linee guida non avrebbero quel potere che ha tipicamente la linea guida dell'ANAR perché lì come ha riconosciuto il Consiglio di Stato sono per il momento atti di regolazione di autorità indipendenti quindi con una condizione assoluta diciamo per certi versi si porrebbe un ulteriore conflitto perché in questo caso nell'esercizio di una potenza legislativa esclusiva che bisognerebbe però dimostrare da parte della provincia evidentemente dovrebbe assumere ulteriori linee guida io non aggiungo su questo argomento ulteriori considerazioni quello che mi premeva era dire che quando noi guardiamo le linee guida al di là delle loro formulazioni ci rendiamo perfettamente conto di un disegno qualcuno ha parlato di una sorta di una sorta di fraus del del legislatore che è tentato di diciamo fare questa operazione diciamo molto molto sofisticata utilizzando l'ANA come strumento diciamo di superamento delle eventuali contese per arrivare ad una regolazione unitaria magari efficiente più facilmente diciamo aderente alla realtà però di fatto vincolante e sotto questo profilo noi ci stiamo trovando come impianto normativo provinciale un po' spiazzati se non dire anche noi fuori gioco perché domani mattina c'è sempre quel potere di sindacato che non è tanto ancora del giudice amministrativo ma dell'ANA a Camonte e tant'è che insomma la questione rischia di essere sotto molti profili e siamo solo all'inizio delle linee guida perché quando ci sarà quella dell'articolo 83 o del 84 forse è l'unico pacifico perché il sistema di qualificazione è sempre stato almeno quello riconosciuto ma quello dell'83 no perché tutti i requisiti di partecipazione non sono che intrinsecamente collegati a quelli evidentemente delle sistemi di affidamento e delle modalità di affidamento dove ci fossero discrasie questa cosa renderebbe diciamo particolarmente complicata la questione io lascio questo argomento anche contando che chi mi ha preceduto possa dare qualche contributo in questo senso non pretendendo ovviamente non immagino solo le soluzioni questi dialoghi sono anche per scambiarci delle opinioni opinioni tra virgolette nel senso valutazioni ragionate su temi per tutti quanti fare degli approfondimenti personalmente per chi diciamo ha considerazione che l'autonomia in questo debba essere un elemento di miglioramento e di efficienza sconta inevitabilmente con queste formule diciamo anche a rincorrere qualche problema abbastanza significativo auguriamoci che il futuro sia un po' meglio dal punto di vista diciamo dell'impianto anche perché queste linee guida come è stato ricordato in più punti lasciano perplessi perché la tecnica legislativa è abbastanza discutibile grazie di tutto ringrazio tutti e tre i relatori mi scuso col consigliere Polidori se ho inserito no nel senso che ovviamente era un piacere ascoltarla ma la mia preoccupazione è che poi col fuggi fuggi l'avvocato Tita non riuscisse a esporre la sua relazione quindi in questo momento al di là di ringraziare io inviterei davvero commenti osservazioni domande le domande critiche naturalmente anche critiche non solo all'ANAC che se le merita per certi versi e quindi qui c'è il microfono mobile se volete fare qualche intervento poi naturalmente gli stessi relatori possono dialogare perché un dialogo si tratta tra di loro sulle questioni che sono sorte qualcuno deve rompere il ghiaccio in questi casi altrimenti mi viene da dire che la platea ha subito gli effetti delle linee guida poi voglio dire che l'intervento dell'avvocato è stato il colpo di grazia c'è cioè se prima allora vorrei chiedere solo il problema della disapplicazione delle linee guida in relazione alla natura di atto normativo generale ove si ha ravvisato un contrasto con la norma primaria di solito quando c'è questa platea raggelata mi vengono in mente quelle parole e credo che fosse canta siate oscuri e sarete profondi chi ha ascoltato dice me non ho capito niente però quelli che parlavano si capiva che loro si l'avevano capito mi auguro sempre che non sia stato questo l'effetto di questi dialoghi anche se devo dire che i nostri interventi forse hanno sortito questo effetto poi se sommiamo la domanda della presidente Vigotti qui rischiamo la deflagrazione praticamente allora chiaramente siamo sul tema del futuro cioè come si comporterà il giudice amministrativo in questi casi fondamentalmente perché ecco il tema della disapplicazione si pone in una duplice prospettiva quindi è un tema delicatissimo io ho accennato solo a una parte del problema la disapplicazione delle linee guida da parte dell'amministrazione cioè è il caso che ci sta ponendo devo dire con forza l'avvocato Tita cioè è il caso ma lo dico a livello puramente semplificativo è il caso di qualcuno in provincia che dica no su certi temi che non attengono alla concorrenza non attengono alla tutela dei diritti non attengono ai rapporti tra soggetti privati è la provincia che in base allo statuto ha l'ultima parola non lo stato o per esso l'ANAC quindi io per questi versi disapplico cioè è una vera e propria disapplicazione però attenzione di un atto amministrativo non è la disapplicazione di un atto normativo quindi siamo in un contesto diverso da quello classico diciamo tipico del giudizio amministrativo no è proprio un'amministrazione che disapplica una linea guida dicendo semplicemente a me quella non si applica cioè non è che io non la applico perché non la voglio applicare no non la applico perché non è a me applicabile credo che sia questo il tema che voleva porre l'avvocato dita cioè non la applico perché a me non si applica e se pretendete che si applichi si pone il problema di trovare gli strumenti di reazione l'altro grande tema è quello che invece attiene la disapplicazione da parte del giudice amministrativo e qui apriamo uno scenario sul quale io volutamente ho cercato di svicolare perché probabilmente prima o poi a noi questo problema si vorrà cioè prima o poi il giudice amministrativo dovrà qualificare questi atti perché evidentemente se noi li qualifichiamo come atti normativi quindi seguiamo le indicazioni le suggestioni chiamiamole come vogliamo di una parte della dottrina evidentemente si pone un problema di disapplicazione normativa qualcosa che il giudice amministrativo può fare applicando principi come la gerarchia delle fonti iuranovit curia sappiamo quali sono le fondamenta della disapplicazione normativa nell'ambito della giurisdizione di legittimità la questione diventa un po' più complessa se invece li qualifichiamo come atti amministrativi allora siccome vedo molti avvocati in platea che solitamente frequentano le aule di giustizia dei tribunali amministrativi regionali allora io raccomanderei attenzione che vengano impugnate anche le linee guida perché se poi il giudice amministrativo propende per una qualificazione delle stesse in termini di atto amministrativo generale vige la stessa regola che vige per i bandi non l'ha impugnato l'amministrazione ha applicato le linee guida quindi l'indicazione che io do quindi alla seconda categoria e quindi devo ringraziare la presidente per la domanda a quest'ulteriore parte dell'uditorio quindi gli avvocati che affrontano questi problemi in sequenza dopo la stazione appaltante quando l'operatore economico pone il problema si dovranno porre il problema della doppia impugnativa cioè dell'impugnazione congiunta dell'atto amministrativo e della linea guida spero di avere dato una risposta esaustiva per quello che è consentito in questa sede o certo evidentemente questo rischia di determinare in applicazione alle regole vigenti in materia di processo amministrativo ma questo è un tema come sappiamo ben più delicato che attiene all'accentramento di competenze giurisdizionali nell'altar del Lazio che è qualcosa che come sappiamo crea qualche problema perché io ritengo che il giudice naturale degli appalti relativi alla provincia di Trento piuttosto che al comune di Pergine Valzugana sia il tar di Trento e non voglio aggiungere altro e ho detto tutto come dice Peppino concordo appieno che ci sia un problema di connessione quindi di conseguente vocazione al tar del Lazio e però non si può disapplicare nella misura in cui l'unica grande distinzione ancora sussistente tra atti amministrativi generali e atti normativi è che solo i secondi possono essere disapplicati la giurisprudenza è fermissima sul punto quindi bisogna impugnare dal punto di vista sostanziale hanno un valore normativo esatto e perché anche altri atti generali che non sono linee guida adottati da autorità di regolazione dall'autorità dell'energia elettrica alla Gcom sono sempre stati qualificati atti amministrativi generali e il giudice non li ha mai disapplicati si impone sempre la doppia impugnativa di tutte indubbiamente sì sì ah sì che la forma non corrisponde alla sostanza è indubbio se dal punto di vista procedimentale atti amministrativi generali atti normativi sono vicini sotto quel profilo processuale assolutamente no e che crea appunto una discrasia tra forma e sostanza concordo e poi un altro rilievo concordo sarebbero secondo me tempi recenti per riconoscere una legittimazione dinanzi alla corte costituzionale della corte di giustizia le pronunce invocate erano del 1995 e facciano riferimento a un'autorità che poco poteva far nell'ordinamento quando era il vecchissimo garante per l'editoria l'Anacad ha tantissimi poteri prima li abbiamo ricostruiti tutti sono poteri normativi poteri sanzionatori poteri paragiurisdizionali conseguentemente è davvero un quarto potere che giustifica il potere andare dinanzi alla corte costituzionale l'ultimo rilievo sollecitato mi pare che forse possiamo dichiarare chiuso l'incontro perché beh che sia stato rotto il ghiaccio non mi pare che forse bisogna organizzare un altro convegno va bene ancora grazie a tutti coloro che sono intervenuti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti